Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con Ceriani Moto. Oggi vedete intorno a noi uno spettacolo diverso, adesso Rossella ci spiegherà perché. Ciao Rossella intanto. Ciao Rosi, grazie, saluti a tutti, benvenuti. Ricordiamo, Ceriani Moto, Via Buongesù 33, Castellanza, uscita autostrada Laghi, Busto Arsizio, molto più comoda per raggiungerci. Oggi partiamo con l'usato così, visto che la stagione sta partendo, vi facciamo vedere tutte le nostre proposte. Dalla prima moto, alla moto Grand Tourer, alla moto sportiva, insomma vi facciamo vedere un po' di tutto quello che vi possiamo proporre per iniziare la vostra meravigliosa stagione in moto. Che sta arrivando, come vedete, dall'abbigliamento. Sì, sì, bellissima fucsia, oggi è grande Rosi, grande Rosi, una botta di fucsia. Andiamo e partiamo. Benelli Leoncino 250, una bellissima prima moto o una moto per chi al posto dello scooter vuole appunto la moto. Facile da guidare, quattro tempi, come vi dicevo 250 di cilindrata, del 2020 con solo 5.000 km. Portapacchi e vi regaliamo anche il bauletto posteriore, prezzo 2.800 euro più passaggio di proprietà 250. Con 3.000 euro vi comprate una moto che ha un anno di garanzia e vi permette di fare le vostre gite fuori posta. Benelli 400 imperiale retro, come vedete, un bellissimo revival nell'estetica comodissima. Siamo al 2021 come anno della moto, con chilometri pochissimi, 4.500, prezzo 3.200 più la passaggio di proprietà che però su questa regaliamo. Quindi 3.200, chiave in mano e potete partire per le gite domenicali. Kawasaki Z650, avete già le vostre borse, il portapacco per un bauletto, eventualmente il bauletto lo regaliamo perché a nome della Rosi se venite vi regaliamo il bauletto. Ditelo, eh? Ditelo. 3.600 chilometri, anno 2023, quindi recentissima. ABS, bellissima per viaggiare ma bella anche per le piccole gite fuori porta. Prezzo 7.500 euro più passaggio di proprietà 250. Ducati Scrambler 1100 Sport, qui diciamo che mettiamo insieme il motore molto performante alla linea molto retro, bellissima da guidare, mille chilometri, praticamente nuova, Rosi. Del 2019, prezzo 10.800 euro più passaggio di proprietà. Questa è una chic, ragazzi, è un bel volante. E adesso entriamo nel mondo delle moto un pochino ignoranti, come si dice in gergo, cioè quelle moto che hanno un'estetica graziosissima ma hanno un sacco di cavalli. Qui parliamo di KTM 1290 R Super Duke ABS, cambio elettronico, 20.000 chilometri, sempre tagliandata dai concessionari, anno 2020, prezzo 13.500 euro più la messa in strada, tenuta divinamente con tutte le parti originali. Eccoci qua, di nuovo Yamaha MT10, anche questa è un'altra bella moto ignorante, quindi molto sportiva, del 2020 con 13.500 chilometri, 11.300 euro più il passaggio. Tra l'altro abbiamo anche i supporti borse, perché potete andarci anche con la fidanzata, fate finta, così ve la portate, e abbiamo anche le borse in corredo laterali, così potete far finta di aver comprato una moto turistica. Turistica, proprio solo per la fidanzata. La ingannate sicuramente. CB Honda 1000 R Matt Bullet, abbiamo gli specchietti a manubrio, abbiamo i paramotori, abbiamo una moto che ha 16.500 chilometri, del 2018 ABS, prezzo 8.500 euro più passaggio, tenuta divinamente, anche questa è quella moto un po' vintage che carichi la fidanzata, dici no, ma è comoda, però è un bel aereo. KTM Six Day 250, diciamo che se avete voglia di farvi il vostro girettino in mezzo ai boschi, ve lo fate, e anche se volete usarla per andare a scuola o al lavoro. chilometraggio, perché è vero che va a ore, ma abbiamo il contachilometri con 10.000 chilometri, è stato rifatto il motore da poche ore, da una decina di ore. Prezzo, siamo a 5.500 euro del 2017. La moto è molto bella, ha anche dei particolari cambiati più performanti, solo il mono ammortizzatore posteriore ha un valore di circa 3.000 euro, quindi veramente un affare. Venite, molto bella da vedere, molto bella da ascoltare, ma soprattutto molto bella da usare. E qui abbiamo l'Aprilia 125 RS del 2023 con 4.500 chilometri a 4.500 euro, una bellissima moto, veramente tenuta bene, quasi introvabile il 125 usato. Oltre a questa abbiamo anche un Motard 125 Aprilia con 10.000 chilometri a 3.700 euro. Guardatela sul nostro sito perché vedrete anche quella. E continuiamo con le sportive GSX-R1000 GP R Suzuki, una super bomba, chilometraggio 24.500, anno 2020, colorazione GP, unico proprietario, tenuta quasi da vetrina. Come dice qualcuno, sempre in garage, ma non è vero perché ha fatto 24.000 chilometri, però veramente quando il cliente ritornava se la puliva e se la lucidava. Diciamo che è veramente un amante della moto, si vede? Si vede, è bellissima, è lucida, sì, come nuova. Anche questa è una bella moto da sparo. Prezzo 15.000 euro più passaggio di proprietà, venite a vederla perché ne vale la pena. Pronti per partire per le gite, fuori porta o la vacanza. Tris di borse, Benelli TRK 2021, chilometri 25.000, completamente tagliandata. E come vi dicevo, come accessori inclusi nel prezzo della moto abbiamo le tre borse, quindi siete pronti per partire. Ci sono anche i faretti in aggiunta, cavalletto centrale e protezioni sono di serie sulla TRK, ruote a raggi, quindi un po' più alta. Prezzo di questa moto 4.800 euro più passaggio di proprietà. Ma veramente siamo pronti per partire, compreso lo schienalino per il passeggero, così la vostra fidanzata non si lamenta. Buona vacanza. Sempre Benelli, ruote e lega un po' più bassa, quindi un pelino più stradale. Qui la vedete un po' più semplice, quindi meno accessoriata, ma si può sempre accessoriare. Del 2022 con solamente 4.700 chilometri a 4.600 euro più il passaggio. Potete portare sempre la fidanzata, ma io dico fidanzata perché la moglie che si porta rimane una fidanzata. Perché insomma, quando si va in moto si resta giovani e quindi si resta dei ragazzini. Davvero, dà l'idea proprio di essere tornati magari indietro nel tempo, perché no? Potrebbe essere una cosa super piacevole. Il 360 gradi della moto e i profumi che potete percepire sono unici, ti posso garantire. Ricordatevi sempre di guardare il nostro sito, è che le vedete tutte queste offerte. Qui siamo nel mondo Suzuki, V-Strom 650, accessoriata con cupolino a doppia letta, cavalletto centrale, protezioni. Abbiamo un chilometraggio di 22.000 chilometri del 2020 e siamo a 7.500 euro più passaggio di proprietà. Per completarla, se vi può far piacere, vi omaggiamo le borse originali. Praticamente 1.000 euro di omaggio, è tantissimo. Direi che è veramente tanto. Su questo abbiamo un bel regalo questa volta, affrettatevi perché così avete anche già il portapacco posteriore, basta mettere un bauletto. Sempre per viaggiare, V-Strom 650, Suzuki, sostanzialmente una garanzia come tipo di moto, tantissimi chilometri, super comfort, bicilindrico a 90 gradi. Qui avete un 2018 con 32.000 chilometri a 6.800 euro, su quale regaliamo il passaggio di proprietà per la giacchetta fucsia di... Dite di aver visto la mia giacchetta. E se volete si possono comunque aggiungere le borse e vi facciamo un ottimo prezzo. Abbiamo sempre il colpolino a doppialetta e abbiamo sempre il cavalletto centrale. Una moto unico proprietario, tenuta molto bene, acquistata da noi da nuova, quindi super garantita. Eccoci qua, Yamaha Tracer GT, anche qui abbiamo una bella moto per viaggiare, avete il vostro trittico di borse, un 2023, avete 5 anni di garanzia Yamaha, chilometraggio 23.000, prezzo 12.400 euro, cupolino alto come accessorio, il resto è tutto di serie. Molto comoda, molto compatta, non tanto alta, anche questa da provare, un bel motore con un bel comfort. E qui abbiamo una moto leggerissima, un monocilindrico di Royal Enfield, Himalaya, 400 di cilindrata, ABS del 2023, già con un minimo di portapacco dove potete aggiungerci un bauletto, 3.300 chilometri, il suo prezzo 4.300 euro più passaggio di proprietà. Abbiamo un veicolo identico nero del 2018 a 3.700 euro più passaggio. Questo diciamo che è una categoria easy, semplice, leggera, ma che comunque vi permette di andare a fare un giro lungo con un po' più di pazienza. Insomma abbiamo sempre una premura incredibile quando dobbiamo raggiungere un posto. E godersi i paesaggi, andare con calma. Esatto, viaggiare è la cosa più bella di quando prendete in mano una moto. E qui abbiamo la Super BMW, una BMW 1200 Adventure del 2007 con 88.000 chilometri, tagliandata, revisionata e con tutte le modifiche che aveva necessità la moto. Tritico di borsa in alluminio, diciamo che è un po' un cult per le moto da enduro stradali. L'avete a 7.800 euro più passaggio di proprietà. E qui è tanto. È come noi, siamo tante. Siamo tante. Ben è qui che scherza con noi. Eccoci qua. Quindi da vera biker abbiamo un Harley Fat Boy Dyna 1690 con l'ABS del 2013 con 40.000 chilometri, completamente revisionata, tagliandata, in Harley, prezzo 13.000 euro più passaggio di proprietà. Qui entriamo proprio nel biker americano puro. Sempre nella linea custom superbike, biker, pardon, Benelli C502 del 2023, quindi recentissima, pochissimi chilometri, 500, con il suo cupolino e le marmite modificate. Ovviamente diamo anche le marmite originali, ci sono a corredo le marmite originali. Anche questa un super prezzo, 5.200 euro più passaggio di proprietà. Un po' più semplice, un bicilidico leggerissimo, divertentissimo però per quelli che amano un po' il casto, insomma. Insomma, la carrellata dell'usato non è finita. Andate a vedere il nostro sito cirianimoto.it perché ce ne sono delle altre e così vedete anche le foto di tutto quello che avete visto, oltre al resto che ci resta. E oltre alle moto che andranno in aggiornamento per ritiro durante queste settimane. Vi ringrazio e andiamo a vedere il nuovo. Ah, bene ascoltate. Eccoci qua, qui siamo nel nuovo, abbiamo tutta la carrellata delle novità di quest'anno, anche bene molto entusiasta della nuova GX Suzuki, che vedete qui nell'allestimento sport, valigie incluse, marmita molto bella a Krapovic, manopole riscaldate, cupolino sportivo. Hanno creato degli allestimenti dedicati sport e touring, poi venite che così ve la facciamo provare perché finalmente è arrivata e ve la facciamo vedere. Tutte le novità di Suzuki, compreso la nuova GSX-8R che è la 800 carenata, cambio elettronico, insomma tutte le cose che vi avevo già descritto e tutta la linea della Priglia, della Moto Guzzi Stelvio che finalmente sta arrivando e V85 con tutte le promozioni, compreso Benelli. Quindi vi aspettiamo, Rosi, per farvele vedere, anche Ben vi aspetta, che avete visto che è arrivato con il massimo entusiasmo. Grazie Rossella, alla prossima. Grazie a voi, finanziamenti dedicati e tutto. Vi aspettiamo. Ciao.